Professore Acciari, qual è l'energia che fa girare il mondo, cioè come è divisa tra le varie fonti? Attualmente, stiamo parlando a livello mondiale, la maggior parte dell'energia viene prodotta da quelle che vengono chiamate le fonti fossili, quindi carbone, gas e petrolio e questi occupano praticamente più dell'80%. Il resto poi è fornito da quelle che potremmo anche chiamare rinnovabili più una parte di nucleare. A livello italiano questa suddivisione è mantenuta, anzi forse noi a livello italiano dipendiamo ancora maggiormente dalle non rinnovabili perché arriviamo anche a superare l'85% di dipendenza. A questo dobbiamo anche però fare una divisione, ricordarci che questa è l'energia primaria fornita dalle fonti. Possiamo distinguere anche la parte di elettricità fornita dalle varie fonti, allora in questo caso si ridistribuisce un pochettino questa suddivisione e le rinnovabili, così come il nucleare, assumono una quota un po' più importante, anche se comunque rimaniamo dell'ordine che il 20% è assorbito dalle rinnovabili più nucleari e il resto sempre dalle fonti fossili. Quale sarà lo scenario futuro? Come cambieranno questi rapporti percentuali tra fonti energetiche? Stanno cambiando, negli ultimi anni stanno cambiando questi rapporti. Le rinnovabili invece stanno continuamente aumentando, potranno arrivare negli anni 2035-2040 a occupare il 60% loro invece della produzione di energia elettrica del fabbisogno mondiale. E invece per quanto riguarda in particolare il fotovoltaico, quale sarà lo scenario entro il 2020? Negli ultimi decenni, prendiamo come riferimento, c'è stato un continuo aumento del fotovoltaico e è passato da una percentuale bassissima a livello mondiale di produzione. A livello europeo magari ha assunto un aspetto sempre più importante, tant'è che in Italia per esempio ha raggiunto a coprire una quota superiore al 7%. Potrebbe arrivare a coprire una quota, per quanto riguarda a livello europeo, anche vicina al 20%. Ma questo maggiore impatto dovrà essere accompagnato dalla ricerca che permetta di portare a ridurre i costi del fotovoltaico e l'efficienza di conversione. Questo avviene attraverso la ricerca come per esempio quello che facciamo qui al centro solar dell'Università Milano Bicocca, che è nato appunto con questa idea, quella di studiare nuovi materiali, nuovi dispositivi in campo fotovoltaico. Ricordiamoci che questi tempi di sviluppo possono sembrare lunghi, in realtà si deve considerare che le fonti energetiche utilizzate nel passato hanno avuto anche loro dei tempi di sviluppo per diventare la fonte di produzione energetica principale.